Pace da promuovere al centro del Consiglio Episcopale Permanente CEI, concluso stamani a Roma, nel pomeriggio conferenza stampa con il Segretario Generale che illustra il comunicato finale. Di fronte a una cultura a sue fatta, la guerra riflettono i Vescovi, occorre offrire alternative alle logiche dominanti, tornando a educare alla pace attraverso ad esempio esperienze come l'obiezione di coscienza. C'è una sottolineatura ricorrente nei nostri dialoghi che la pace si prepara con l'educazione, l'educazione alla pace. al confronto, al rispetto dell'altro. Sulla corsa agli armamenti, mantenendo alta l'attenzione sul mercato delle armi tramite scelte legislative non in linea con Magistero e Costituzione. Chiediamo grande attenzione e anche la possibilità di riconoscere le destinazioni e poter conoscere con trasparenza come si evolve comunque un mercato che non è un mercato certamente di pace. L'altra preoccupazione sulla situazione paese, soprattutto legata ai rischi povertà connesse alle diseguaglianze nell'accesso ai servizi, ad esempio nelle aree interne, annunciato perciò un documento entro maggio tramite cui la CEI esprimerà una posizione unitaria sulla questione autonomie differenziate. Perché non c'è sussidiarietà senza solidarietà, bisogna evitare sia l'assistenzialismo che il particolarismo senza legami con il resto del paese. In vista del giubileo 2025 sarà dunque attivato un progetto di microcredito sociale con l'istituzione di un fondo di diverse decine di milioni di euro per sostenere quelle persone schiacciate da debiti di cui hanno bisogno di liberarsi. Sul fronte ecclesiale prosegue il cammino sinodale, riscoprire il ruolo di padrini e madrine evitando l'attuale diversificazione della prassi pastorale delle chiese locali che in alcuni casi hanno sospeso questa figura. Dinanzi alla fuga in avanti di alcune regioni, desiderose di colmare un vuoto legislativo in tema di fine vita, è fondamentale ribadire, scrive il parlamentino CEI, che la vita è sacra, sempre e in qualunque condizione, e che non si può giocare a ribasso. Infine l'orizzonte di partecipazione civica con le prossime elezioni europee. Chiediamo di poter votare e a tutti i candidati di impegnarsi per uno sviluppo di un'idea di Europa come la casa dei popoli e la casa delle persone, perché vengano custoditi questi valori, non sacrificati a logiche commerciali o a logiche di guerra.